Restiamo nei dintorni di Arcumeggia per ricordarvi che nel mese di settembre ricomincia a fare Musica 2007, la manifestazione di musica e arte organizzata dal comune di Casalzuigno e patrocinata da Comunità Montana della Valcubia. Vi segnaliamo alcuni appuntamenti del prossimo weekend. Il 7 settembre in Villa Bozzolo, a partire dalle ore 21, il maestro Adalberto Riva terrà una conferenza sulla storia del pianoforte. Più ricco il programma di sabato 8 settembre con una visita guidata alla Chiesa della Santa Casa di Cavona a partire dalle ore 10. Alle ore 21, sempre in Villa Bozzolo, il Trio Festival e l'Appetite Orchestra si esibiranno in un concerto alla scoperta della musica italiana degli anni 30, 40 e 50. Fare Musica terminerà domenica 9 con due appuntamenti. Il primo a partire dalle 10 nella casa studio dello scultore Marco Zanzottera per una mattinata accompagnata dalla musica del duo Fortino, che eseguirà brani composti per clarinetto e chitarra. Alle ore 18 in Villa Bozzolo, il Fare Musica Ensemble, composto esclusivamente da musicisti della Valcubia, accompagnerà un aperitivo in musica eseguendo quattro brani composti per l'occasione da Oscar Boldre. Potrete trovare i dettagli della manifestazione sul sito del comune di Casalzuigno. Cambiamo argomento. Nei mesi di settembre-ottobre ricomincia la stagione dei funghi e riapre lo sportello micologico in Valcubia. Comunità Montana, in collaborazione con l'azienda sanitaria di Varese, ha voluto rinnovare anche quest'anno il servizio per la verifica della commestibilità dei funghi. Vediamo insieme il servizio. Il quinto anno consecutivo Comunità Montana istituisce questo importante sportello micologico. Sì, esattamente. Il quinto anno che funziona, appena cominciato a funzionare, il sabato è stato il primo giorno, funziona il sabato e il mercoledì di tutte le settimane praticamente fino alla fine di ottobre. In modo tale che tutti i raccoglitori della zona, tutti i residenti in Comunità Montana possano portare dei funghi a far analizzare e quindi mangiare in tranquillità. C'è da dire che questo servizio ha trovato un riscontro positivo perché il numero di fruitori è aumentato con il passare del tempo. e quindi direi che chi gode delle bellezze della natura, della nostra meravigliosa comunità può anche godere dei prodotti che la natura stessa ci offre in tutta tranquillità grazie a questo servizio. Naturalmente con un occhio di attenzione perché i funghi sono pericolosi questo è anche un servizio che naturalmente tuttira la salute dei cittadini. Questo sicuramente tuttira la salute dei cittadini. Vogliamo proprio tentare di mettere a disposizione quello che di buono dà la natura delle nostre zone senza far correre dei rischi alle persone. Quindi uno che va a raccogliere dei funghi prima di mangiarli può farli osservare, farli classificare in modo tale da essere tranquillo. Come zona fungifera la Valcuvia come è messa? La Valcuvia direi che è messa molto bene anche se io, siccome frequento questi posti da sempre anche se sono di Milano comunque, li frequento da sempre una volta non è che ci fossero più funghi probabilmente c'erano meno cercatori adesso i cercatori sono tanti e quindi i funghi in proporzione sono diminuiti però è ricco tutto il versante nord del campo dei fiori anche tutte le montagne sul versante opposto sono ricche di funghi sempre che ci siano le condizioni adatte. In questo momento non è ancora cominciato proprio il periodo in pieno perché ci vuole una certa temperatura, una certa umidità ma fra poco sicuramente avremo anche noi i nostri meravigliosi porcini e altri funghi. Per il quinto anno consecutivo lo sportello micologico istituito della comunità montana entra in funzione? Sì, un doveroso saluto anche da parte del direttore generale dottor Zeli e del direttore sanitario dottor Banfi alla comunità montana nella persona del presidente dottor Marco Magrini e dell'assessore delegato Carlo Galbiati che hanno rinnovato la possibilità in convenzione di aprire uno sportello micologico presso la loro sede. Che cosa succede all'interno dello sportello micologico? All'interno dello sportello micologico si incontrano innanzitutto i raccoglitori si inizia un percorso di crescita, di conoscenza su questo straordinario, a mio giudizio, mondo dei funghi e dopodiché il micologo attraverso un'ispezione morfo-botanica delle specie esibite rilascia un certificato. La pericolosità dei funghi è nota ci sono molte specie pericolose è facile raccogliere e anche rischiare qualcosa? Sì, rischiare qualcosa con i funghi è facile, molto facile. Nell'arco di questi ultimi 5 anni 113 micointossicati presso le strutture ospedalierie della provincia e altrettanti micointossicati asintomatici. Fortunatamente in questi ultimi 5 anni non abbiamo avuto episodi mortali.